o la ha finito di sistemare gli animali andiamo giù che ieri mi avevano chiesto se andavo a dargli una mano che oggi dovevano piantare seminare fare 100 lavori speriamo di che non siano già partiti che non abbiano già iniziato ma non penso aveva detto per le sette e mezza sono le sette un quarto vedrai che eccoci qua oh i trattori li hanno già preparati lasciamo questo c'è nessuno buongiorno ciao pif buongiorno buongiorno si 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 tutto a posto c'è nessuno qua no sono appena arrivato il tempo di mettere giù la macchina e ingrassare un attimo il trattore e si è arrivato te la prima persona che aveva stamattina certo potevano darglielo una lavata a sto trattore non si vede neanche fuori dal vetro ma mi avevano chiesto Gaza e Roby che se potevamo venire a seminare e alla fine non ci sono neanche loro no mi hanno detto che dovevano seminare alcuni campi ma non si sono fatti vedere stamattina non so il motivo non è che sono ancora nel letto a dormire è probabile ma hai visto se ci sono le macchine no no quello non ho guardato ah no mancano le macchine vedrai che non ci sono però i trattori con le seminatrici sono qua non è che sono dovuti andare via ma bisognerà provare a telefonare qua a vedere se se te che provo a telefonare a Gaza aspetta un attimo fare il numero no niente non prende fammi provare a telefonare a Roby no neanche lui non è raggiungibile eh dove cavola ci saranno si ma non possono farmi venire giù alle 7 di mattina e non farsi neanche trovare dai potevano mandare un messaggio chi è che arriva? chi è che arriva? ah che arriva qualcuno chi è? chi è? Roby uno di loro tre chi è chi è? aspetta 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 oh 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 ah ma il grande capo oh buongiorno eh signori buongiorno buongiorno signor Rafa bentornato buongiorno buongiorno grazie grazie cosa ha fatto? tre mesi di ferie? due e mezzo? il capo non è mai in ferie il capo al massimo è in trasferta ah in trasferta ah si ma avevano detto a controllare ma aveva detto Gaza che era in trasferta in Germania vero Pif? si si esatto ecco a litigare con la polizia tedesca ah e con altre con la polizia c'è sempre da litigare quindi esatto in tutte le nazioni e in tutte le lingue e in tutte le lingue no eravamo qua io e Pif perché ci hanno chiesto Roby e Gaza di venire a dargli una mano che oggi dovevano seminare i campi cos'è che aveva detto? orzo e barbabietole mi sembra si esatto però non c'è c'è qua nessuno eh ma perché loro due sono a corso sono dovuti andare al corso dell'antincendio ah ma li hai sentiti te? sì 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 li ho sentiti prima l'uno andava al corso dell'antincendio e l'altro andava al corso per avere il patentino per fertilizzanti eccetera per cui era mi hanno detto che non c'erano infatti dovrebbero avere anche i telefoni staccati perché sono uno è chiuso dentro una caserma e l'altro è ho capito ho capito credo che dormirà ancora perché a quest'ora lo prese oh però sapevano che c'ero io poi sapevo che ah bonbon eh bene qualcuno che sapeva guidare il trattore c'era perfetto no comunque ho visto che hanno preparato qua i due trattori con la piantatrice e la seminatrice quindi sapevano che sì sì dovrebbero essere tutti tutti già pronti eh allora magari cominciamo a riempire la seminatrice qua esatto non so se abbiamo semi a basta perché non so se abbiamo ma so che ce li hanno stoccati là in fondo andiamo giù a vedere io prendo questo ma questa è bella vuota questa qua è il tiapro è vuota anche questa eh sì sì perfetto eh per l'inverno le hanno messe via vuote logicamente eh se no eh ascolta siccome io con sto trattore non non mi ci trovo è un po' troppo moderno vero eh sì posso cambiarlo sì mi prendo un case eh se proprio se proprio vuoi prendi un case sarò costretto a usarlo io quello anzi quello è il mio per cui il tuo ovvero allora io mi prendo 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 l'optum che tanto per quella piantatrice l'optum è il palo quello ti prendi il palo esatto chiama cutrella d'acciaio questo esatto allora perfetto pif se apri con la seminatrice sei più comodo a caricare penso eh se no a prendere lì dietro il buco eh dai ti carico io dai vediamo se sono capace a far danni a proposito Stefano qua le balle di paglia noi le teniamo le avanti tenute per te queste queste qua ti interessano sempre vero sì 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 che avevo detto ai ragazzi di non toccarmene queste perché eravamo primastiche mi avevi detto sì sì gliel'avevo detto gliel'avevo detto anche a a Gaza e e Roby gli avevo detto che me le tenessero lì a parte che c'era anch'io quando le hanno quando le hanno imballate le ho portate lì io è che gli ho detto sì sì no infatti gli ho detto di tenermele gli ho detto di tenermele qui perché al momento su a casa non ho molto spazio no no vai tranquillo ma stasera dove prova a sganciare il trattore un attimo e vai avanti che provo ad andare lì verso il timone a vedere se riusciamo a riempire sta benedetta seminatrice adesso 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 scarica stava scaricando adesso eccola se si ferma sto saccone allora allora prendi in giro non è che è già piena vado 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 da un'occhiata no salgo sul trattore arrivo e controllo qui ti conviene comprarti un manitù o un telescopico comunque perché qua questo devo andare da metri infatti vedere un attimo adesso perché abbiamo sapevo che avevano i ragazzi mi hanno detto che avevano ordinato già della roba che serviva però bisogna bisogna che andiamo da metri un attimo sì anche perché i semi non so se ne abbiamo abbastanza per riempire c'è poca roba perché c'è semi ce n'è guarda due tre quattro ce n'è cinque ma mi pare che un paio siano già tipo mezzi iniziati calcio qua ce n'è perché ce n'è fertilizzante fertilizzante ce n'è poco perché sei sacchi e un paio mi pare che siano anche iniziati per cui rischiamo che poi arriviamo a metà lavoro e ci manca ci manca la roba per cui magari tanto che siamo pronti che diventa un'ora più decente andiamo da da metà e vediamo di di 10 è un parto caricare è quasi un parto caricare questa seminatrice che Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' arrivato Herman. Ciao a tutti. Ciao Herman. Ciao. Eh vedi che questa sta piantatrice è più comoda. Adesso ti finisco di caricare e Piff è partito con la seminatrice giusto? E' andato a seminare Orzo? Sì, è andato già a seminare. Perfetto. Allora andiamo a Herman sta piantatrice e andiamo lì da Met in negozio. Io credo che così... Gliela riempiamo e poi almeno vediamo cosa c'è del resto. Esatto. Ne avagio ancora semifertilizzante? Tu che vedi il computerino lì in gabina? Sì. Ce ne va ancora? Ce ne va ancora. Fertilizzante siamo a metà e semi siamo a zero. Metà? Di fertilizzante? Ah ce ne sono ancora tre sacchi? Non è che... Ci sono tanti sacchi. E infatti bisogna mettiamoci giù tutto quello che c'è e poi andiamo a metto. Sì 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 sì, andiamo a metto sperando che abbia lì... Sperando che ne ha. Sì, di solito ne ha ben una scorta. Sì, un po' di scorta, lui ce l'ha sempre. Dopo beh, con questa pianti le barbavietone e hai detto che ne pianti un paio di campi? Sì, è giusto un paio di campi. Quindi penso che se riusciamo a riempirla ne è abbastanza. Semmai è la seminatrice che ha preso Pif che secondo me tutti quei campi a Orzo non riesce a seminarceli. Guarda, intanto vediamo cosa ci ha metto. Al limite ci mettiamo su un carrello e ci portiamo su un po' di roba. Ma a proposito di carrello, l'avevate poi ordinato quel carrellone che non minava? Sì, ne avevamo ordinato uno bello, grosso. Mi è già costato uno chiudere la terra. Sì, la pianta di ballare sto sacco. Ancora? Sì, sì, ce ne sta poco ma ce ne sta ancora. Ce ne ho ancora uno. Allora mettiamo. Andiamo a sbagliare. Quindi ci sta. Allora. Aspetta che adesso ci litigo questo sacco di fertilizzante perché si è girato e non riesco ad agganciarlo. Ti carico i semi, aprimi il portello dei semi, che è quello dietro, so. Posso? Così dopo lasciamo partire anche Herman. Semi non dovrebbe starcene tanti qua. Questo sacco qua mi sa che non era neanche pieno. Era vuoto. No, no, ce n'era uno. È avanzato, era avanzato dall'altra seminatrice. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Oh, finalmente. Allora. Cerco di fertilizzante o quell'altro l'hai... Aspetta che provo a guardare se riesco a prenderlo ma mi si è girato. Aspetta forse da questa riesco ad andare via ad agganciarlo. Ah, dai che l'ho girato. Eccolo là, perfetto. Ci stanno gli ultimi 500 litri. Ah, proprio. Adesso che è l'ultimo ci ho preso un po' di mano. Bon, piena? Piena, piena. Perfetto. Ok. Allora sto Fender te lo lascio qua che tanto lo usi per scaricare dopo la roba. Sì, lo lascio pure lì tanto. Oh, perfetto. Allora, Herman, tu dove hai detto Raffa che piantavi barbabietole? Dovevano essere quasi di sicuro 15 e 16. Sì, 15 e 16 erano due campi. Piccina. Esatto. Ok. Beh, è sulla mappa Herman sul trattore. Sì, sì, vado. Raffa dov'è? Sì, sì, siamo arrivati dopo. Va bene. No, dai che andiamo su da Matt in negozio. Vediamo. Mi ha piaciuto da Matt. Vediamo se ha su un po' di fertilizzante e un po' di semi. Ah, lascio andare te che è tanto che non ti fai vedere da Matt. Allora, almeno se ci aspetta col badile, arrivi prima te. Esagerare. Eh, sai ben che Matt è simpatico. Gli piacciono gli scherzi e non vorrei mai prendere una badilata. Guarda, guarda, guarda. Ah, qua. Va che pala che è qua. Va che razza di pala. Mangava viti che veniva. Oh, ancora sei pala. Sempre a giocare con quel centenario lì, eh? Eh, eh. Gombi, io gioco. Ah, ah, ah. Eh, però le ore vanno su. Almeno gli dai un trattore che è adatto a lui, con le 7-8 mila ore. Eh, sì, 7-8 mila anni, 10 ore vuole un trattore. Eh, eh, prendete in giro voi. Più 5-6 giri del contavore. Ecco. Eh, ecco. di scendere. Ma... Chi è che ti ha ordinato sto Ferguson qui, con questa mega seminatrice qua? No, fermi, questa è roba mia. Roba tua? Mi? Per un campo che hai? Ah, la faccia. Ah, vuoi far presto quando semini? Porca. Buongiorno. Un giocatore lì va da poco, eh, proprio. Ah, va da poco, proprio. Oh, guarda qua un carrellone serio. Sì, non ride, perché... Eh, devo comprarne uno anch'io di questi. In che... In che anno? Eh, vedremo. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Ah, ce l'hai qua? Eh, quasi, quasi. Eh, però a me serve con lo spondone davanti per le voalle. Lo spondone davanti, smondemo e smondemo. Eh, sì, tanto ci sono giù gli attacchi qua per lo spondone davanti. Ah, mi serve per portarmi le balle che faccio in campo, portarle a casa, perché ho su quel rimorchietto che comincia a perdere qualche bullone ogni tanto e prima di prima... No. Sano? No, no, adesso... No, ho fatto un piano di riammordamento... Per riammodernare tutti i veicoli, quindi... Ho già cominciato con un trattore che ho comprato un Lamborghini. Eh... Adesso... Adesso... Prenderò il centenario se l'amico Matt qua me lo vende. Comunque, vabbè, intanto andiamo avanti così. No, ti spiego. Vedi, cioè, quando si compra, vedi questa cosa qua, si chiama trattore nuovo. Eh, infatti. Sì, ma io no... No, è troppo grande per me. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo si chiama trattore nuovo, non so schifo che come le deviare. Sì, ho capito, ma sono troppo grandi per me. Cioè, io faccio lavorazione di erba e basta, dai, faccio fieno. Cioè, prendo un 380 cavalli per far fiera giovane, ma dai, ti puoi figurare. No, anche qui è trattori nuovi, non è che è costa per cambiare aria. Ecco, questi già... Questo che razza di marca è sto trattore? Questo è lo fratello... Ah, lo Stara. Non ho capito. Questo è il trattore trans. No, non è della famiglia del Landini, può essere? Sì, è fratello, o argendino, o rasiliano. Ah, ecco, mi sembrava. Ah, il Valtra. Vedi, questi sono trattorini che vanno bene per me. O il Centenario, perché se no su, nei miei steccati, com'è che faccio a passarci con un bestione come questo? Non ci passano neanche degli steccati? Io mando la motro sega. Sì, ma... Ma non serve, non serve. Abbassa il peso, bunda sul palo e via, abbassa sopra. Sì, infatti. Abbassare un po' il peso davanti. Ah, se no ti rimedio una pala da neve, eh? Non è... È quella quando, per questo inverno, quando comincerà a nevicare, servirà anche la pala da neve. Anche perché devo pulirmi sulle strade. No, 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 che te... Dei cominci a raffregarli i lavori. Lo sto fatto sempre io, lo faccio io, lo lavoro. Ah, beh, ecco, lì ti servirà un trattore del genere, perché se cominci a lo spargisale e la lama davanti e pulire le strade e tutto, eh... È lì sì che ti servono cavalli, no? Per andare a falciare e voltare un po' di fieno, eh, voglio dire. A parte che vengo su quella motoballa se devo venire libera le strade due, perché quello trattore è... Mmm... Ecco. Ma, beh, noi... Raffa, noi adesso, bando alle ciance, 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 ciance alle bande. Noi eravamo qui per un altro motivo, giusto? Sì, noi eravamo qua anche per ritirarci le nostre cose, in più per prendere un po' di semi e un po' di fertilizzante, perché siamo completamente asciutti o ci abbiamo veramente più poco. Quindi, visto che c'è un bel po' di sacconi in giro di qua e di là, se ci fai una camionata... un carico, un carico... Ma a niente ne serve? Eh, fammi un carico di semi e un carico di fertilizzante. Vabbè, un carico te lo vuoi fare tu, mi andrete a portare via lo rimorchio. Ecco, giusto. Giusto, carichiamo un rimorchio di fertilizzante, anzi, un rimorchio di semi, perché un po' ce n'è. Ma se facciamo 3 e 6? No, fertilizzante l'avevamo finito, ce n'è lì un mezzo sacco. Ok, allora prendiamo metà e metà, dai, metà e metà di questo, e poi facciamo, mi porti metà e metà. Ascolta, intanto che ti carica, io porto sta piantatrice tua. Sì. Allora porto giù in farm, porto giù questa e torno ad agganciare il carrellone dopo. Sì, esatto. Intanto ci metto un attimo attraverso la strada e torno subito. Se non mi distrugge il trattore nuovo, anche te potevi togliere le chiavi. No, 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 non ti distruggo. La raca l'ha montato il baracchino, ti sento. Porca. Aspetta che le seminatrici le tiene sugli agli agli, gliela metto sotto il capanno qua. È nuova. La mettiamo qua sotto. E Herman, Piff, mi sentite per CB? Sì, porta e chiara. Come avete trovato? Siete al lavoro? Sì, ho già iniziato io. Ottimo. Sì, anch'io. Con i semi fertilizzanti ne avete, sì? Sì. Comunque adesso... Piena. Ok, comunque adesso qua... Abbiamo ordinato, stanno caricando lì in negozio semi fertilizzanti, se servono veniamo su, anzi, mi attacco già il caricatore frontale al trattore nuovo qua, che così se serve veniamo su col carrellone e vi riempiamo. Allora, se lui prende quello, vediamo tanto da vedere. Ragazzi, mi sentite per CB? Sì. Sì. Guarda che io sono arrivato qua, sto arrivando qua dove c'è il campo grande, cos'è? Il 13 questo grande? Sì, il mio. Ottimo. Io ho il carrellone con su i semi fertilizzanti. Mi metto qui in parte e se doveste aver bisogno di semi o fertilizzanti fate un fischio che vengo a a farvi il pieno. Ah, adesso ti vedo lì, pif. Allora, l'alpif. Allora, tira bene la tira bene la seminatrice quel trattore, lì, sì? Sì, abbastanza bene, sì. Ottimo. E invece, Herman, dov'è che sei? Io sono al 17. Ah, sei su dall'altra. Sono al 17. Sono, eh sì, sono sull'altro campo. Aspetta che mi sposto da qua, mi metto su sta stradina laterale che non debba passare qualcuno che se no cominciano a suonare. Boh, mi metto qua così. Così non do fastidio. spegniamo le luci. Aspetta, miradizzo. Ottimo. Perfetto. Vedete dov'è. Ah, il capo dov'è? Il capo sta arrivando. Ah, sì, arrivo. Ah, ecco qua, Herman. Evo qua. Ah, comunque per oggi finiamo di seminare, eh? Sì. Tanto, allora, beh, dopo bisognerà aspettare minimo settimana prossima prima di seminare il mais perché il mais chiede 10 gradi di temperatura del terreno e adesso è troppo freddo. Comunque, per... sto guardando il meteo da bel tempo fino a... a... a offio. Fino a un mese prossimo, quindi... non ci sono problemi. Ottimo. È tutto bello, bello. Con le temperature in aumento. Bom, bom. Perfetto. Ottimo. Ottimo e abbondante. Va a guardare il capo lì che arriva col picapo. Il capo col picapo. Vabbè. Eccomi qua. Ah, sono andato a curiosare un attimino Herman che è su con la piantatrice. Ah, aspetta che ho lasciato i lampeggianti accesi. Ecco, aspetta. E poi io consumo lampadina. Ah, più batteria, più che altro. E te che hai lasciato i fari accesi, allora? Eh, capo, capo. Il capo può. Ah, il capo. Ah, c'è chi può e chi non può. Il capo può. Esatto. Io può. Chiacca arriva anche Matt lì con i rinforzi a seminare? Eh. Ah, hai assunto anche lui oggi? Sì, sì. Oggi non si va da spesa. Allora si strafinisce oggi di seminare. Almeno le parti quelle più veloci. Allora, distanciati, che cambi dovete seminare? Il 14, questo qua. Ah, questo. Questo, con quella seminatrice lì, passi ben comodo qua. Passa due volte e ha finito. Eh, una roba del genere. Faccio io l'occhio o meno il genere che ci devo mettere? Io farei orzo. Questo è anche quello lì in fondo, quello al di là. Perché questo sopra abbiamo detto che va a barbabietole. Sì, esatto. Questo qua. Lo fai a barbabietole. Questo qua. Questo, il 15 è già stato fatto. Questo? Ah, è già seminato? È già seminato. Ah, non ho capito. Aspetta che avevo il, l'attrezzo per vedere. Allora, qua. Vedere. Sì, barbabietole. Ha già il cento per cento di fertilizzazione anche sto campo. Sì, sì. Ottimo, ottimo. Ah, vabbè, dai. Un buon lavoro. È da sperare solo che chi non nascano le erbacce. Ah, vabbè, gli passeremo l'erbicida. Se proprio, proprio serve. Dove crescono le erbacce. Guarda, guarda, guarda. Vedi, Raffa, comprano le seminazioni. Matrici stra-megagalattiche, no? E dopo si impiantano in ogni alberello che trovano. E da ieri delle biande? Eh, parla con il capo qua. È suo, il campo, non è mica mio. Sì, effettivamente, queste piantine. Potresti ben... Dargli una pulita, eh. Quest'inverno, est-inverno, si può, che i campi sono fermi, si può dare una bella pulita. Bombo. Guarda che arriva anche il pifi. È finito lì, pif? Sì, il 13, sì. Vado all'11. Buonissimo, guarda che è da questa all'11. Ah, giusto. Vabbè che, sì, senza fare tutto il giro, puoi andare su dal 13. Tanto non c'è il recinto lì in fondo. Sì, vedo. Sì, vedo. Sì, vedo.